La superattesa KTM 790 Duke è finalmente in vendita presso i concessionari ufficiali KTM. Questo nuovo modello è il più agile e tecnicamente avanzato della gamma street 2018, pensato per i piloti che cercano quelle sensazioni di guida uniche e dirette che solo una naked può regalare. La nuova Duke è equipaggiata con l'inedito motore LC8C, il primo cuore bicilindrico in linea nella storia di KTM. La spinta è costante e progressiva dai minimi ai massimi regimi grazie ai 105 cavalli di potenza e alla coppia di 87 Nm di questo motore da 799 cm3. Le dimensioni così compatte del motore hanno permesso agli ingegneri che hanno sviluppato la ciclistica di realizzare un inedito telaio a culla aperta e di concretizzare l'essenza stessa della KTM 790 Duke creando una moto super agile ed estremamente maneggevole. Questa KTM assicura al pilota ha un feeling ottimale in qualsiasi condizione di guida e soddisfa chi è alla ricerca della velocità in curva piuttosto che della semplice potenza. Oltre alla precisione di guida e ad un motore fruibile a tutti i regimi la nuova Duke dispone della più completa dotazione di sistemi elettronici per l'assistenza alla guida del mercato, inclusi ABS, controllo della trazione sensibili all'angolo di piega, 4 riding mode, quick shifter plus launch control e connettività opzionale per lo smartphone tramite l'app KTM MyRide.